Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Grazie a tutti! Non so che ho abituato, mannaggia la maronna. Non da nid, scusami. Non da nid, è scimilato. Ti prego, non sembrava. Non lo dovevi dire. Non lo dovevi dire. Alte F4 io lo farei per rispetto di me stessa. Come un porco. E se qualche ragazzo mi sta guardando? Mi fate fare brutte figure. Freeze. Freeze. Stop Freeze. Stop Freeze. E ora... Ti puoi avvicinare? Non... Un pochettino di più ti puoi avvicinare. Lo prendo? Nooo... Cadi su Saturno? Girati? Non lo prendo. Un pochettino di più. No. Un pochettino di più. Un pochettino di più. Nooo... No, no, no. eh, scusa quando sento sta canzone mi parte sempre.. Milan contro di noi Fa il partitone Ciao mia sorella è incinta Sto diventando padre Aguri etan Un bacione Speriamo che sia un maschietto Aspetta L'Inter è una grande squadra L'Inter è una grande squadra EZ 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 sono finanziato con le lingue e facciamo un figlio ok facciamo la figlia e poi 30 40 anni 50 anni e questa figlia si fa grande no? tipo 18 anni ok? 18 anni e che succede? e poi succede che succede che può essere che conoscere un ragazzo e fa l'amore scINGLE бо lace la gone me morte qui diamo morte capsi stu viene stu 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 stต stu 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 stu